Al via le atlete della categoria G5 In testa a dettare l'andatura troviamo una porta colori della Ravena Copp a seguire il resto del pelotone che si allunga in questo tratto di salita Le atlete appaiono davvero concentrate, si osservano l'altra e tutte stringono i denti per cercare di non perdere contatto dal gruppo principale Passano i giri ma ancora nulla da segnalare, il gruppo si mantiene compatto e numeroso Sembra che tutte le atlete stiano conservando le energie per lo sprint finale E all'arrivo domina la volata all'ieri Giorgia dell'Albano Ciclismo Davanti a Margheriti Sara della Caravattese Giudicati Michela della Monteclarense, Massa Ilaria dell'Alzate Brianza E Pandolfi Sabrina della GF Fulgor Una strada, un lavoro, una scuola Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora Una fiamma che incendia l'aurora Un errore perfetto, un diamante, un difetto Dona vostra